Ciao a tutti ragazzi, oggi video è un po' diverso e con questo cappellino molto sobrio oggi parlerò di 110, super bonus del 110% e di sconto in fattura. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa e oggi colgo l'occasione per fare un video su un argomento molto caliente e cioè super bonus 110%, super bonus 90% e cessione del credito che sono tre argomenti strettamente legati. Allora partiamo dal 110%, facciamo un piccolo recap cos'è il 110%? In pratica è una misura che permette di ristrutturare la propria abitazione avendo, detta così e non è proprio così però, avendo un ritorno che è maggiore dell'investimento quindi 110%, immaginiamo, spendiamo 100.000 euro ma alla fine ce ne tornano 110, ripeto, non è così è più complicato come cosa, ma giusto per farvi capire il meccanismo. Per usufruire di questa agevolazione però c'è un punto cardine, bisogna realizzare un lavoro trainante e cioè coibentare la propria abitazione, quindi realizzare un cappotto esterno, oppure installare una pompa di calore al posto della caldaia. Questi lavori trainanti danno l'opportunità di realizzare lavori trainati e quindi pannelli fotovoltaici, batteria per il fotovoltaico, wallbox infissi, cioè un bel pacchetto di roba. Però c'era un problema, questo investimento ti ripaga più di quello che ha investito in dieci anni, cinque, dieci anni, però come prima misura era come faccio io ad avere tanta liquidità in pancia, quindi avere 100.000 euro, 50.000 euro, dipende poi dai lavori da realizzare sull'unghia. Tutti questi incentivi sarebbero andati a favore solo dei ricchi, chiamiamoli così, in modo un po' grezzo. Allora hanno introdotto questa cessione del credito ed è quindi io privato che ho la mia abitazione do il mio credito fiscale a terzi, che sia l'azienda, che sia la banca e cedo questo 10% di plus valenza a loro. Di fatto io non sborso nulla o quasi nulla, però ovviamente non vado a guadagnarci quel 10% in più, però ho il super pregio, ho il super vantaggio di realizzare i lavori quasi gratis. Ok, partiamo da questo presupposto. Di per sé la misura era anche bella, solo che è stata realizzata un pochino male, perché chi era già del mestiere, chi sapeva già muoversi, chi era un po' ahum ahum con geometri, architetti o ditte costruttrici, è riuscita a muoversi un po' subito ed è riuscita a usare questo incentivo per la propria casa e anche per la seconda casa. Tutti gli altri condomini e bla 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 ci hanno impiegato molto più tempo e adesso tanti si trovano un po' inguagliati perché hanno tolto l'accessione del credito, vabbè, se i lavori sono già iniziati nei primi mesi, vale ancora, vabbè, tante clause non sto qua a specificare. Però alla fine di conti tanti soldi sono andati a chi i soldi già li aveva, ecco. Ed era una misura invece che era nata per svecchiare un po' le case vecchie e ovviamente chi va nelle case vecchie, chi non ha tanti soldi. Quindi questa misura ha creato un buco nel bilancio enorme perché, vabbè, come al solito si fanno le leggi, proprio bisogna anche, si dovrebbe anche predisporre un ente che controlli che tutto sia in regola, che va tutto bene e avrebbe dovuto mettere anche come clausola un tetto ISEE in modo tale che chi facesse questi lavori avesse un ISEE medio, dai, non troppo alto, non troppo basso, diciamo non per i super ricchi. Per correre ai ripari, diciamola così, hanno voluto eliminare il 110% e introdurre il 90%, che il meccanismo è molto simile, solo che non vai a guadagnarci così tanto. È comunque una misura super appetibile. Però adesso hanno messo anche un tetto ISEE, cioè se superi i 15.000 euro di ISEE, quoziente familiare, bla bla bla, comunque tutta quella stare lì che è anche qua, non sto a specificare cosa sono, se superi non puoi utilizzare il 90%, però adesso, capitemi, chi ha un ISEE sui 15.000 euro pensa a tutto, fuorché andare a fare dei lavori così pesanti, così dispendiosi, che in realtà non sono dispendiosi perché se trovi un ente che ti cede il credito, scusa, scusate, che gli puoi cedere il credito, allora è una misura più abbordabile. Ma che cosa hanno fatto? Hanno eliminato anche la cessione del credito. Quindi io privato, che voglio realizzare dei lavori su una casa vecchia e posso fare il salto di due classi, e ho un ISEE sotto i 15.000 euro, non posso più cedere il mio credito fiscale a terzi, quindi vuol dire che se devo realizzare 20.000, 30.000 euro di lavori, li devo pagare tutti, mi verranno rimborsati in 5 o 10 anni, per il 90%, ma questo delirio li devo avere subito. Ed è qui che è nato tutto l'inghippo, cioè siamo passati da un estremo, in cui i cani e i porci potevano fare questi lavori, a uno, anche se è un po' poverino, questi lavori non riesce comunque a farli, perché costano tanto e il credito non si può più cedere. Mi sembra una manovra fatta per dire, ok, no, no, noi vi facciamo vedere che il bonus 90% per ristrutturare le case c'è ancora, perché sapete che gli standard europei vogliono che tutte le classi energetiche siano altissime delle case, e infatti vogliono togliere anche le caldaie, però vabbè, vedremo, vedremo. Però ha ammesso il 90%, ma avevano paura che con qualche poveraccio riuscisse comunque a usufruire del bonus, superbonus 90%, e allora hanno tolto la cessione del credito, così onde evitare che qualcuno riuscisse ad accedere a questa misura. Vabbè, ecco, è giusto per fare una panoramica generale, poi non lo so, perché probabilmente sembra che si può fare l'accessione del credito in determinate circostanze, non lo so, vedremo. Comunque le cose stanno così. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!